Deve rientrare ora 2G e 3G Ecco Io, oh, non va la macchina Ok Ah si perchè Ma cosa? Ma scherzi Ma ho 10 secondi Eh no vabbè è imbarazzante Non va Ma non mi va la macchina Ehi via libera Ma che c***o Vabbè ma io vestemio Vuoi sapere i 10 secondi